fab lab sardegna un nuovo sistema produttivo aperto una piattaforma di sperimentazione di tecnologie di fabbricazione digitale per imprenditori progettisti e giovani sardi un nuovo modo per fabbricare cose accedere a nuove tecnologie e condividere saperi fab lab è una realtà che nasce in america al massachusetts institute of technology dove dopo l'invenzione della prima macchina controllo numerico e della prima stampante 3d viene predisposto il primo kit di tecnologie digitali per dare a tutti gli strumenti per fare quasi qualunque cosa sviluppare nuovi usi e incontrare nuovi utenti lo scambio di informazioni attraverso internet unito alla fabbricazione digitale incrementa un sistema flessibile perché risponde alle esigenze del singolo locale grazie alla produzione on site e on demand ed economico perché vengono tagliati i costi extra del prodotto i fab lab fabrication lab o fabulous lab dal 2003 a oggi si sono diffusi in tutto il mondo ora anche in sardegna in un contesto in cui c'è una forte tradizione artigianale i fab lab aprono l'orizzonte a una nuova generazione di artigiani tecnologici e un nuovo spazio di idee e di sperimentazione fab lab sardegna modella le tue idee con la tecnologia digitale